benvenuti a una nuova puntata di gs in italia oggi parleremo di un addio al ciclismo importante di lusso smette di correre matteo montaguti corredore classe 84 grande classe 84 tra l'altro una classe della madonna abbiamo corso anche squadra insieme il mio primo anno da professionista l'ho fatto in squadra con lui è stato molto bello di viaggiato qualcosa corse che ho fatto quell'anno insieme a Matteo sicuramente e adesso devi fargli penare tra poco il caro Matteo dovrai fare delle penitenze e specializzato nel far fare penitenze ai ciclisti quando smettono c'è chi sega la dice non gli sega le gambe abbiamo corso insieme una vita abbiamo la stessa età e quindi è giusto preparargli una festa coi fiocchi ma prima mandiamo in onda i saluti speciali per te caro Matteo ciao Matteo dovrai dire Moto Guzzi ecco te souhaite una buona retraite e spero che ci va bene passare per te penso che noi abbiamo passato molto buoni anni insieme abbiamo passato molto buoni momenti abbiamo partito la stessa filosofia del velo quindi la fin di carriere è così un pollo come ci faranno e meraviglio e io non farò per te e guarda che qualcuno ti presenta che città tu dimenticati a Matteo tu dimenticati a Matteo tu enlavi la tettina il fa come? tu dimenticati? città come il fa il poteo? il fa come il poteo? Allora Matteo, bisous! Nella mia carriera ci sei stata anche te, ti ricordi l'ultima americana che abbiamo fatto insieme quando mi hai detto a Fiorenzuola, oh spingimi forte, ti ricordi poi come è andata a finire, vabbè sono cose che succedono, ti auguro ogni bene e spero di rivederti presto, sei una bravissima persona e sicuramente anche nella vita, tra virgolette, normale saprai essere quello che sei stato da corridore. Un abbraccio, ciao! Ciao Monta, come va? Anche tu ci hai raggiunto nella schiera degli ex allora, ormai eri l'ultimo degli Highlander della vecchia, scuola del bordo, assieme al ferro. Ricordo ancora i tre anni fatti assieme col bordo, sicuramente quelli ti hanno temprato e ti hanno permesso di fare senza problemi, liscio come l'olio, tutti i 12 anni di carriera da prof. Sicuramente un'ottima carriera, 12 anni non li fanno tutti. Penso che ti sei tolto delle belle soddisfazioni, sia personali, sia a livello di squadra. Hai corso in grandi squadre, quindi comunque hai visto il ciclismo a 360 gradi e per questo sono sicuro che non avrai nessun tipo di rimpianto. Ricordo benissimo quando nel 2010 eravamo assieme al giro della provincia di Reggio Calabria, con la tappa con una pioggia tremenda, un freddo gelido nonostante fossimo nel sud Italia, tappa che poi vincesse e che ti portò alla vittoria nella classifica generale. Ero contentissimo quasi come, anzi forse più che se avessi vinto io. Assieme ci siamo sicuramente divertiti tre anni da corridori, da ciclisti professionisti assieme, anche le scorribande in pista assieme a Gairo e company, la vittoria, il campionato italiano in seguimento a squadre, tutta l'avventura assieme alla sei giorni di Milano e così via. Poi ho avuto il piacere anche di allenarti, di essere uno dei tuoi allenatori per molti anni da professionista, questo sicuramente mi ha dato grande soddisfazione, ti ho visto crescere come atleta e come uomo, quindi sicuramente sono orgoglioso di essere stato uno dei fautori della tua brillante carriera da professionista. e niente, goditi questo momento, all'inizio magari può sembrare, ci sono passato anch'io, può sembrare che ti manchi qualcosa e in realtà vedrai che, anzi, tutto quello che viene dopo, il mondo professionistico è in discesa e non so se resterai nell'ambiente oppure no, però sicuramente là fuori c'è un mondo che finché si corre non si pensa neanche ci sia, invece in realtà offre tante opportunità e tanti motivi di gioia che condividerai sicuramente con la tua bellissima famiglia. Ciao Monta, a presto! Ciao Monta, volevo ringraziarti per ogni momento passato assieme quest'anno, anche se sono stati pochi ma direi intensi, e grazie ancora per quello che hai condiviso con me e con noi, e ti auguro il meglio per il tuo futuro. Un grande in bocca al lupo e un abbraccio. Ciao! Ciao Monta, ti ringrazio per questo anno passato insieme, nonostante molte volte abbiamo avuto pensieri contrastanti, direi che abbiamo passato una bella annata, e ti faccio il mio grosso in bocca al lupo per il tuo futuro e per tutto. Ciao! Ciao Monta, ti voglio augurare un grosso in bocca al lupo per la tua nuova vita e il mio pensiero va sempre al giro a Cortina, quando in hotelli il cibo faceva schifo e da gran signore si è andato al ristorante. Chapeau! Ciao! Ciao Monta, Mi unisco all'in bocca al lupo per la tua nuova vita degli altri ragazzi. È stato un piacere condividere una parte della tua carriera e in bocca al lupo ancora per tutto. Un abbraccio! Ciao! Ciao Monta, ti mando un saluto e un ringraziamento per tutto quello che ci hai regalato in questo anno. e colgo l'occasione per farti un grosso in bocca al lupo per il proseguo della tua vita. Sono sicuro che sarà più soddisfacente e erosia di quello che è stato finora. Mi raccomando, un abbraccio. Ciao! Ciao Matteo, volevo farti un saluto al volo e augurarti un grosso in bocca al lupo per il tuo post carriera. Ma sono certo che se ci metterai la stessa determinazione che i tempi della GEDESER che usavi per portarmi in testa al gruppo, non avrei nessun problema. Ciao! Ciao Monta, ti ringrazio per i bei momenti passati assieme, soprattutto a Benidorm, e ti faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo della tua vita. Un abbraccio. Ciao, beccio! Ciao Monta, come stai? Spero tutto bene. Volevo mandarti questo video messaggio per ringraziarti dei momenti belli trascorsi insieme, soprattutto nel primo ritiro a Benidorm. E come si dice, chiusa una porta, si apre un portone. Buona fortuna per la tua seconda vita. Ciao, bello! Ciao Monta, volevo ringraziarti per i bei momenti che abbiamo passato insieme, anche se sono stati pochi, ma buoni, e soprattutto volevo farti un grosso in bocca al lupo per il tuo proseguimento di vita. Ti mando un grosso abbraccio e spero di vedere più presto. Ciao, ciao! Buonasera, vuoi fare questo piccolo video per augurarti, Matteo, tutto il meglio per la prossima avventura che già aveva iniziato. È stato un piacere fare il ciclista con te, abbiamo diviso molto l'emozione con gli anni insieme a Rosario, però non solo, anche quando eravamo in scuola diverse, sei realmente un grande e spero che adesso puoi andare avanti con tante motivazioni e trovarti la tua felicità nel lavoro e avanti un po'. Spero che stai gorendo la tua serata e saluto anche gli ostenti che ci sono e vi devo avere una buona serata e a presto ci vediamo sicuramente in giro. Ciao! Ciao Monta, mi unisco all'In Bocca al Lupo per la tua nuova vita degli altri ragazzi. È stato un piacere condividere una parte della tua carriera e In Bocca al Lupo ancora per tutto. Un abbraccio! Ciao! Monta, volevo ringraziarti per questi anni che abbiamo passato assieme, prima da dilettanti e poi anche da professionisti, e ringraziarti per tutto quello che ci hai trasmesso. Volevo dirti che sei stato un grande professionista e sono sicuro che questa grande professionalità la trasmetterà anche in quello che andrai a fare in futuro e andrà benissimo tutto quello che farai. Quindi ti auguro un grossissimo In Bocca al Lupo e comunque ci vediamo sulle nostre strade in bici. Stai rivistrando? Che non so cosa dire! No, a parte gli scherzi! Ciao Monta e un saluto veloce e un grosso In Bocca al Lupo per la tua nuova vita senza bici. Ci sentiamo presto, un abbraccio! Non, benissimo che ti ha fatto, Ciao Matteo! Ci hai ho fatto un'ottavo piccino? Questa è di fare un messaggio, io volevo io a me chiedere un po' a queste fette per fare un po' aste message, te souhaite pleine buone cose per l'aventur, e che ti profiti bene anche da questa giornata, perché è importante per vorremmo, , per passare a altre cose. Ovo io continuo a profiter anche di velo, io ho franchi il passo come tuoi fa un anno che ho fatto una piccola di fine carriere e sempre in vivo e sempre in vita per la prossima è stato uno dei corretti con cui ho avuto più con Pozzo tutti i due quindi non mi permette di apprendere l'italiano quindi è un po' dommage ma non è un po' di più però io potrei compter su tutto ogni volta che ho chiesto qualcosa quindi non ci sono problemi ti auguro buona chance per l'aventura e poi profite bene Bye Ciao Monta Guarda un po' ti ricordi qualcosa? In teoria dovresti ricordarti un po' comunque cosa devo dire io come faccio adesso? come farò a farmi passare le giornate in fuga? come farò a farmi passare il tempo in quelle interminabili giornate e chi andrò a tormentare per fare due chiacchiere in quelle giornate in fuga? come faccio? adesso devo trovare un'altra vittima sacrificale da da tormentare no? e però scherzi a parte seriamente mi mancherai mi mancherà un compagno d'avventure mi mancherà un compagno per le cene dopo i baschi e tu sai a cosa mi riferisco e niente mi raccomando in bocca al lupo goditi questo nuovo capitolo e niente ah ti ricordi no? che qua su hai qualche conto in sospeso con la red passion quindi non puoi schivarla eh? ciao 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 amico mio Matteo spero che tu va bene ah 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 ciao amico mio Matteo ah spero che 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 dopo la vita sera bella per te Valentina e vediamo presto grazie mille per tutti e e j'ai beaucoup apprecié rouler avec toi chez AG2R la mondiale t'as été un grand coureur e 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 che e e e e e e ciao a Valentina a Gilberto grazie per tifoso e a dopo la famiglia Montaguti ciao ciao Matteo volevo complimentarmi con te per la tua ottima carriera ormai sei arrivato al traguardo ma sei benissimo che questo è solo un capitolo ma se ne apro un altro io e io e te abbiamo passato dei momenti veramente belli insieme ricordo ancora quella prima stagione della professionista e ricordo quel giro di Reggio Calabria che è stato sicuro che dove hai vinto quindi e in un certo senso sei stato anche un punto di riferimento adesso qualcosa cambierà non so cosa quali saranno i tuoi progetti per il futuro ma sono sicuro che un ragazzo come te non avrà nessun tipo di problema e niente quindi ti mando un abbraccio e in bocca al lupo per tutto a presto ciao Matteo questo momento arriva per tutti è una ruota che gira io mi ritengo fortunato perché ho smesso nel momento in cui volevo smettere ho maturato questa idea nei mesi e credo che anche te alla fine hai fatto così quindi ritieniti veramente fortunato perché smettere diversamente non è bello magari per una caduta per un brutto incidente o per altri motivi che conosciamo che magari uno non riesce a ritrovare un contratto e queste sono situazioni molto scomode quindi ritengo che se hai fatto questo percorso ti troverai bene digerirai molto bene la cosa quindi per me quando sono stato contattato da una persona molto cara a te Valentina che mi ha chiesto di fare questo questo messaggio per il tuo addio alle corse per me è stato veramente un enorme piacere perché sono siamo stati compagni abbiamo abbiamo condiviso anche un momento bello perché abbiamo corso insieme squadra insieme abbiamo fatto una bellissima crono squadra e io grazie anche al tuo supporto perché ricordo molto bene che sei andato anche molto forte in quella in quella crono squadra e mi hai dato la possibilità il giorno dopo di di arrivare di vincere di prendere la maglia rosa quindi è stato è stato un qualcosa di particolare la maglia rosa è sempre la maglia rosa della della difesa anche nei giorni successivi con te è stato è stato bello è stata una bella avventura sono bei ricordi poi sei un bravissimo ragazzo sei un ragazzo molto umile perché ti sei messo anche più volte a disposizione dei compagni avevi un po questo ruolo di di fugaiolo come si dice molto sei molto bravo andare in fuga ma tante volte per andare in fuga ci vuole anche le gambe non solo fortuna che dire ti ti faccio i miei auguri diciamo così per un tuo futuro ti faccio in bocca al lupo a te la tua famiglia e vivila bene vivila bene perché alla fine quando te lo ricorderai ti ricorderai che potrai parlare anche delle tue delle tue vittorie dei tuoi risultati della tua carriera perché alla fine hai fatto tanti anni e sempre a un buon livello e questo è importante perché sei un professionista è stato e sei ancora tutt'oggi un professionista serio e quindi ti ripeto in bocca al lupo a te la tua famiglia a presto ciao matteo ciao matteo è arrivato il momento di smettere anche per te 2008 ti ricordi il tuo primo anno da professionista il mio ultimo io ero stanco mi pesava tutto e era giusto smettere come credo che sia stato giusto smettere anche per te 35 36 anni all'età giusta non bisogna neanche esagerare a correre troppo per poi anche fisicamente lo risenti perché le fatiche a quasi 40 anni pesano molto di più hai fatto una carriera dignitosa due vittorie tanti anni al servizio di capitani e squadre credo che tutti si ricordino di te la tua tenacia sempre l'attacco la tua professionalità sempre a disposizione e hai lasciato un buon segno la vita comunque continua e credo che sarà ricca di soddisfazioni ancora anche per te l'importante è mettere lo stesso impegno che hai fatto correndo in bici ciao a tutti buon natale buon anno nuovo e soprattutto in bocca al lupo ciao monta sei pronto per questa nuova avventura spero che qualsiasi cosa tu decidi di fare tu riesca a trovare al più presto la tua strada e sia ricca di gioia e soddisfazioni come la lunga carriera che è appena concluso e presto ci vedremo per festeggiare la nostra nuova vita ciao monta monta dopo una vita di fatica è arrivata anche per noi l'ora di appenderla in bocca al lupo per la tua nuova vita grande monta grandissimo anche la fine della carriera è arrivata spero il meglio per te e ti voglio bene ciao ciao Matteo scusa se non posso essere la tua festa d'addio ma i ricordi che ci sono stati negli anni che siamo stati professionisti insieme non si dimenticano buona continuazione di vita la vita va avanti e si pedala ancora di più ciao 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 quindi non mi preoccupi per te, ti vedo, ci sarà bene, un momento di flottamento e poi ci sarà riporti, quindi vai Matteo! Ciao Matteo, ti auguro un buon retirement, come puoi vedere è meglio in Italia che in Quebec, it was a pleasure to race with you and share those 5 years with H2R, good luck with what is coming up and cheers, was nice to race with you! Ciao Matteo, voglio ti dire che mi piace avere due anni con tu, ho avuto un buon inizio della mia carriera ciclista e voglio ti dire grazie per tutto, ti ho detto un buon dopo carriera, ciao! Ciao, spero che ti vedo una prossima volta, per esempio sul giro, come questo muro rosso, come sul giro. Ale ciao! Gabriele mi ha presentato il prototipo del Jolly, poco prima di partire per il Giro d'Italia, io ne ho capito subito le potenzialità, la prima cosa che gli ho detto prima di partire per il Giro d'Italia è stato Procurami il Jolly! Dopo una lunga salita, ci sei sempre una lunga discesa, avevo bisogno di avere un antivento pratico e compatto come poteva essere il Jolly, che si tiene in una tasca della maglietta, è invisibile e nel momento in cui si indossa è veloce quanto uno smanicato da indossare e soprattutto invisibile. Invisibile! Ehi, via! Ma cosa devo dire, ragazzi? Come è nato questo Jolly, cioè? Forse è unica ed è unico sul mercato, è una chicca.